buongiorno a tutti sono milena fornara sono guida ambientale escursionistica oggi ci troviamo a schianno e faremo una passeggiata tra i boschi di schianno e di lozza alla scoperta del lisse della cintura verde sud barese cominciamo la nostra escursione grazie a tutti il parco cintura verde sud barese come suggerisce il nome abbraccia la parte meridionale della città e svolge un importante ruolo ecologico come ponte di collegamento con le aree protette circostanti le rocce presenti raccontano la storia geologica del territorio come il ceppo dell'olona una formazione rocciosa fluviale tipica della valle olona il torrente selvagna accompagna la nostra passeggiata che si snoda tra ex selve castanili boschi misti e aree aperte grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti